Se il mal di schiena ti gioca brutti scherzi, riscrivi la tua storia con ilmodol dolori articolari e muscolari, antinfiammatorio e antireumatico ad effetto locale rapido e prolungato, fino a 12 ore, agisce contro dolore e infiammazione. Non perdere la tua occasione, torna ad essere il protagonista. Ilmodol, la tua salute al centro, da Farmitalia.